Ciao a tutti e benvenuti sono LeFari e oggi riscopriamo il multiplayer di Doom In realtà su PC è la prima volta che ci gioco, su PS4 invece ho giocato svariate ore Tant'è che come potete vedere avevo comprato anche il Season Pass a suo tempo Perché non tutti si ricordano che Doom è nato con la componente multiplayer Ma le varie mappe aggiuntive e i vari demoni aggiuntivi non erano gratuiti all'inizio Erano a pagamento, pacchetti a pagamento Più un Season Pass che ovviamente li comprendeva tutti Ad un certo punto il multiplayer di Doom è praticamente morto Tant'è che Bethesda ha deciso di togliere Season Pass e di mettere tutti i contenuti possibili, immaginabili, gratuitamente E infatti è quello che c'è scritto qui, in questo breve assunto, ok? Per cui hanno fatto bene diciamo, perché lo hanno un po' come si può dire Risvegliato da quel punto di vista Perché effettivamente non lo giocava più nessuno Su computer invece vedo che ha ancora una buona player base Buona, discreta diciamo, sufficiente Allora, fra l'altro, l'aggiornamento che avevano fatto a suo tempo Includeva per l'appunto sostanziali modifiche al sistema di progressione dei giocatori Un sistema di sfide migliorato Un sistema di rune che si statuisce in moduli hack Una modalità allenamento per nuovi giocatori Un nuovo sistema di voto Slayer Allora, vediamo un attimo Cerca una partita Non possiamo fare ancora nulla perché probabilmente sono di livello tipo meno 3 Allora, solo principianti e a squadre A squadre, vai Armi, fa lo stesso Vediamo un po' se troviamo qualcuno Nel frattempo esploriamo un po' il menu Perché non me lo ricordo minimamente Allora, sfide generali Vabbè, qua devo fare ancora tutto ovviamente Sono di livello 0 effettivamente Vabbè, livello 1 perché il livello 0 non c'è Obiettivi partita Personalizzazione corazza Costume personalizzato Sfide più vicine Danni critici con mitragliatrice Ok, vediamo un po' cos'altro c'è Armi, modifica dotazione Qua non posso sbloccare nulla immagino Dotazione personalizzata Neanche parlarne Livello 3 Visualizzarmi Vabbè, le classiche Queste qua si sbloccano a livello 5 Bisogna livellare un po' Elettro laser Ma questo cacciare è il coso vero, no? Nella campagna Non mi pare Bene Templare Dominio Controlla le zone per vincere Vediamo se riusciamo a fare qualche punteggio semi Decente In realtà, credo di no Perché veramente è da tanto che non ci gioco Su computer la prima volta Per cui mi devo Ampiamente abituare ai comandi Che sono gli stessi su PS4 Però, sapete com'è Cambia Cambia Sono gli stessi ma cambia Allora Seleziona classe Assalto Demone Revenant Perfetto Quando è che mi fanno spawnare? In attesa del server Ah beh Ok, bene Che succede? Partita Ok, ho aspettato un attimo Però è l'uscita Eh, siamo 5 contro 5 Buono Io sono della squadra Blu Ok Nooo Ma stai scherzando Ma cosa Perché fa così? C'è un sacco di lag Probabilmente Velocità generata No, non va bene Va bene così Non si gioca così Stanno dominando Stanno dominando Sti cazzi Dai Riprendiamo e vediamo Se fa ancora questi versi qua Speriamo di no Perché altrimenti potrebbe essere un problema Spazio rientra Ok Qualche imprevisto tecnico Speriamo che non capiti più Perdita di alfa Conquistato Charlie Conquista Alfa perduta C'è giusto giusto Un po' di lag Mi pare Mi stanno falciando Altro che dominando Ma dal trono Ficchia va da culo La connessione Io credo di averlo squartato Però anche lui mi ha ucciso Bene Ping 3 3 non è malaccio Perlomeno sembra Charlie Guardatevi sotto Sì Ah Come ha fatto Non me ne sono nemmeno apporto Bene dai A metà strada Per la sconfitta Eh Ottimo Aio Non sta facendo niente Va bene Più che altro Solo a quanti fastiditi Dalla connessione di prima Bravo perduta Ti stanno ruminando Vabbè Uno l'ho fatto fuori dai Uno Uno Conquistato alfa Possessione demoniaca conclusa Perdita di Charlie Alfa perduta Ah è morto allora quello lì Ok C'è uno qua L'avete visto? Vicino alla sconfitta Bene Perdita di Charlie Vediamo qua se riusciamo a conquistarlo Ma se non è andato Eh vabbè ma allora Fai le finte cazzo Ok Porcaccia tua mamma Come ha fatto a sterminarmi così nel giro di un secondo a me Conquistato Charlie Velocità generata Ah Bravo perduta Conquistato alfa Mamma mia che fastidio ste cose Ste voci Charlie perduta Perdita di alfa Alfa perduta Un po' in ritardo Però va bene Recupero Guastafeste Guastafeste Conquistato Charlie Ma perché è tutto in ritardo? È tutto in ritardo le uccisioni E che cazzo è? Qua è l'ho spiaccicato Che altro è difficile capire quando uccidi le persone perché Boh vabbè 10 punti restanti Runa demoniaca generata Spettano nemico generato Charlie e l'upper Stanno dominando Possessione demoniaca conclusa Il nemico ha raggiunto il punteggio lì Sconfitta schiacciante Va bene Sconfitto sì Però qualcosina combinato dai Più o meno Devo decisamente abituarmi Decisamente abituarmi E poi non so È tutto molto strano Ok Funky Monk Livello 50 Sì praticamente è tipo una vita che giocano probabilmente Bella lì 2800 punti esperienza Avanzamento di livello Vediamo se arrivo al secondo No Purtroppo no Personalizzazione schemi Costume personalizzato Personalizzazione corazza Ok Ultimi 10 partiti Torna alla lobby Hai sbloccato la personalizzazione La corazza e le armi Perfetto Tra un po' le vediamo Usciamo dal gruppo Sei E vediamo se Ho fatto qualche sistemazione Diciamo sulla linea Ho chiuso Chrome Che mi fa alzare il ping Mi ero dimenticato Vediamo un po' se adesso va meglio Personalizzazione Personalizza personaggio Vediamo un attimo Colore primario Perde O ripilante Ma comunque lasciamolo così Armature qua Ce ne sono di bellissime Ma per sbloccare Bisogna fare tante tante cose Tante tante sfide Oppure livellare un sacco Allora Cerco una partita Va bene Tutti contro tutti Deathmatch a squadre Tutti contro tutti A squadre Vediamo un po' Obiettivi partita Ah l'ha già trovata Sì ma Sono gli esisti di prima Mi pare Controllo la zona per vincere Ancora dominio praticamente No cataclisma Cataclisma evidentemente Diverse da dominio Vabbè vediamola Via della guerra Pronti Se non altro Adesso questo qua È un match nuovo Imboscata Assalto e lancia granate Cecchino Assalto Cecchino è la doppietta Proviamo questo dai Cucile vortex Wow Io non me la ricadevo mica Quell'arma lì Sarà Adesso mi pare Che stia andando Già meglio Rispetto a prima Come qualità Della connessione Perché l'ha seccato Quello lì Non so Mi sa che il cecchino È una mezza cazzata qua Zona di conquista Si è spostata Wow Ce l'ho fatta Più o meno Mi ha messo la dura prova Però Ce l'ho fatta Si Motosega in arrivo Motosega generata Ups Nooo Si è preso la motosega Ottimo Perdita della zona Runa demoniaca in arrivo E vabbè Eh due contro uno No No Purtroppo E vai E vai Zona perduta Zona perduta Bene Bene Su Su Grande Ma le granate Non le lanciamiche Col mouse centrale Qua come Nessuno Perdita della zona Possessione demoniaca conclusa Sì Speriamo di stare attenti Un po' di corazza Un po' di corazza Perdita della zona E vabbè L'ho ucciso Non credo Non credo Male Zona di conquista Willa Attenzione Attenzione E cinque Ok Dove si va di qua No Non sognarmi la corazza Infamone Ah Quasi ucciso 39 di vita Eh vabbè Un po' di corazza Cazza male Non fa Uila No eh Zona di conquista Runa demoniaca Generata Barone demoniaco Nemico Generato Recupero Pod damage Zona di conquista Digazze Voto pronto Ehi la Maledetto Cacchio Bene Grazie per la corazza Dov'è la zona? Di qua Zona perduta Cacchio Quanta vita Mamma mia Quanta vita Quanta vita Quanta vita Bene Io meno E vai E vai Mi diverto Mi diverto Sarò onesto Mi diverto Mi sono sempre divertito Con il multiplayer Però molti di voi Sanno che Wow Oh porcaccia La pupazza Bene dai Solitamente queste Cazzarola Solitamente Queste scene epiche Mi capitano Quando non sto Registrando Per fortuna Ogni tanto Vengono fuori Anche mentre gioco Ogni tanto Dov'è? 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 Dove sono? Dai Ne voglio uno Nel mirino 50 punti restanti Ma che Quando cerchi un nemico Cazzarola Avevo un sacco di vita Quello lì Perdita della zona Zona perduta Chi c'è qua? Sentivo degli spari Deve esserci qualcuno Zona di conquista Zona conquistata Runa demoniaca in arrivo Super vita là Eh che cazzarola Zona perduta Runa demoniaca generata Mientitore alleato generato Eh Vai e spacca i culi Porcaccia Quanta vita mi ha tolto In due secondi Ah 50 secondi Per me che ricompaia Quello lì dovrebbe essere Berserk o Quad Damage Non mi ricordo onestamente Voto oro 1500 Ucciso Restano due minuti Spettro nemico generato Zona di conquista Dieci punti restanti Zona conquistata Zona conquistata Cazzo Au Mi ha fatto male eh Zona perduta E perdiamo Possessione demoniaca conclusa Il nemico ha raggiunto il punto Sconfitta a stento Sconfitta a stento 250 240 Va bene dai Ok Però mi sono divertito Bene 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 Non ho giocato malaccio Va Ok Vediamo Solo 900 punti ho fatto Mi sembrava di andare Un po' meglio Vabbè Ho forse 900 punti Per la modalità Ma Non lo so Che strano Speravo meglio Armatura rivestita Ho sbloccato un po' di cose Ok Vediamo Hai sbloccato le dotazioni Ora puoi personalizzare Le combinazioni di armi Per adattare il tuo stile di gioco Bene Hai sbloccato le rune Diversi vantaggi Ok Vediamo un attimo Slot Magnete Aumenta il tuo raggio di raccolta oggetti E mostra il timer di rigenerazione Per i potenziamenti standard Riduce i danni Aunt inflitti E fornisce più 5 di corazza A ogni rientro Fino a un massimo di 25 Buono Mettiamo questo dai Così partiamo con un po' di corazza Insomma ogni volta Più volte moriamo Più diventiamo Forti Armi Dotazioni Vediamo un attimo Come prima arma Mettiamo la doppietta Che mi piace E poi Il lanciarazzi Magari Equipaggiamento Granata Che per qualche motivo Non ho ancora capito come lanciare Ma va bene Templare Congelamento Congeli i nemici E scongeli i compagni Adesso ho capito Quelli in alto a sinistra In rosso È il nome della mappa Quello in bianco È la modalità Avevo capito il contrario Va bene dai Avevo capito il contrario Prontissimo Con questa armatura Orribile Vai con questa Ok 5 4 3 2 1 Vai Bene Tutti i nemici Sua mamma Ah Ma praticamente Uccidendoli Tra virgolette Vengono congelati i nemici È così che funziona E perché cercano di attaccarmi Mi sa che anche quegli altri Non so come si gioca Ha scongelato un nemico Ma che modalità è questa qua Non me la ricordavo mica io Un compagno restante Un compagno restante Che stranezza Come si fa a congelare i nemici Restano due minuti Va Qui l'ha Cannone gauss in arrivo Cannone gauss generato Un nemico restante Perfetto E vai Quindi congelati Vuol dire semplicemente Ucciderli Tra virgolette Solo che Al contrario di una uccisione normale Si può Invertire Diciamo lo stato Basta stare vicino ai compagni Che storia Bella però dai È carina come cosa Sì ma Che cazzo Perché non muore nessuno qua Ho sparato miliardi di colpi Non so Tiremo via sempre Bene bene Bravi 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 Thank you Thank you very much Io farò La guardia Ai nemici congelati E vai Bene così Bene così 5 4 3 2 1 Vai Più 25 Più 25 di corazza Ecco vedete Quel modificatore lì Non è affatto male Non è affatto male Io sto vicino a questo Cerchiamo di aiutarlo Non farti accoppare Qua mamma 4 a 2 Però qualcosina ho fatto Credo eh 4 a 3 3 a 3 Niente Stanno invertendo le cose Un nemico restante No Scongelatemi Che vi aiuto Dai In cerca dell'altro Dove sono Dove sono O almeno Dove sono i nemici No Non scongelateli Non scongelateli Restano 2 minuti Un nemico restante Oh ilà E qua L'infamone E qua Ma che cazzo Ma chi è che Le scongelate gli altri Ma sarà da solo Quello là Ed ero qua a controllarli Come ne è fatto a scongelarsi Un nemico restante Porcaccia la miseriaccia Adesso io sto qua Un nemico restante Ok Stiamo attenti Squadra nemica congelata E allora Finalmente Stata combattuta E' bello è che Di questa modalità E' sì un death match In realtà è molto tattico Perché dopo bisogna anche stare attenti A presidiare Diciamo i nemici congelati Altrimenti non si finisce più E' molto molto bello E' molto molto bello questa modalità Mi piace un sacco Davvero Ma che cazzo è No niente Qua ha laggato qualcosa Qui ha laggato Decisamente qualcosa Perché era lì Nell'angolo Desperato di razza Non ho visto Nessun punto di vista Ha tolto Oh Un compagno restante Ah beh Round perso questo A meno che ne facciamo Il miracolo No Direi proprio di no Eh vabbè dai Ok Facciamo 3 a 1 Alla meglio di 10 Ma che cazzo è Ma perché Ma cosa Cosa ho visto Cosa ho visto Boh E si che ho il ping buono Cioè Decente perlomeno Ah no Sto qui è congelato Ok Un nemico restante E ti venisse del bene 6 a 2 Un nemico restante Bene Presidiateli eh Un nemico restante Ok Restano 2 minuti Squadra nemica congelata Perfetto Così mi piace Round 6 Punto partita 5 4 3 2 1 Punto partita Quindi se vinciamo questa Abbiamo finito Decisamente in anticipo Eh Un colpo così D'avvertimento Ma non ha funzionato Chi c'è Chi c'è Chi c'è Chi c'è Chi c'è Ok Shrapnel Di lanianti Avrà a che fare Sicuramente Con i lanciarazzi Questo Che per spicace Che sono Scongela Tua mamma Eh niente L'ho scazzata Potevo stare qua Stealth E invece L'ho scazzata Questa Bravo Eh no È andata male 2 a 2 Che altro Io devo capire Perché non riesco A lanciare le granate Con le cose Mouse e tastiera Selezione a tasti Dov'è la granata Porca Spara con arma Usa equipaggiamento Mouse 4 Boh Un nemico restante Così fa il corpo a corpo Ma perché Non era mica così L'altra volta Round vittorioso Quando giocavo a single player Non era mica così Vittoria indiscutibile Ok Bene IPX Setup X Achievement Ok Maggiore numero Di scongelamenti Migliore precisione Meglio per voi Mi devo un po' fare Mi devo un po' fare Ok Adesso Vediamo cosa abbiamo Sbloccato Fucile vortex Per la personalizzazione Buono E impulso radar Ok E basta Armatura torso anche Armatura braccio sinistro Pastore segugio Demon infernale Anche Bene Voto carneficina Bronzo Tenente argento Insomma Torna alla lobby Ehm Cosa facciamo Cosa facciamo Cosa facciamo Cosa facciamo Rune Personalizzazione Armi Equipaggiamento Ok Ma perché ho il corpo a corpo lì Veramente non lo capisco Vuoi uscire dalle lobby No Facciamo un'ultima partitina Con doom In realtà In realtà ce ne saranno altri Però questa qua Come prima partita Come prima puntata Va più che bene La partita inizierà tra 4 3 2 Bla 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 Ardente Settore Con questo E difendi le zone Per l'estrazione Penso di non averla mai vista Questa modalità Dai che sono pronto Più o meno Che colori orribili Che ho messo Mamma mia Impostazioni Mouse tastiera Assegnazione tasti Vediamo Uso equipaggiamento E o mouse 4 Brazza rivestita Attivata Cattura e rendi sicure Le zone Per l'estrazione Ah Questo tasto qua Ma perché Qua Primo sangue Zona conquistata Perdita di bravo E fucile a plasma Perché Alfa estratto dal nemico Zona conquistata Qua mamma Perché ha questo equipaggiamento Qua io poi Questa voglio Barone infernale Ok Bene Conquista Zona conquistata Bene Bravo Estratto dal nemico Estrazione BFG in arrivo Zona in arrivo Alfa estratto BFG generato Cazzo Zona in arrivo Allora Buono Zona conquistata Zona conquistata Eeeh Vabbè Zona in arrivo Zona in arrivo Niente Au Au Finalmente, ogni tanto non c'è uno Ah, dai, che pacco Bene E vai Maledetto Però da tronde Ah Com'è andato? What the fuck? Ok Ah, ho fatto tanto male Ma non ho ucciso nessuno Purtroppo Mi è piaciuta questa cosa Qua ho fatto veramente bene Eh, vabbè Due contro uno Nove di vita ieri è rimasta Peccato Cazzarola Ah no, è nostro No, l'hanno già ucciso il Revenant Ma che cazzo Ti venisse del bene Ah Mi sono concentrato su quello là in fondo E mi hanno inchiappettato da dietro Classico Boh Tanto casino, eh Perdita di Bravo A metà strada per la sconfitta Bravo, perduta Recupero Vendicatore Wuh, 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 wuh Zona conquistata Vicino alla sconfitta Bravo, estratto dal nemico I nemici segnano Porca cazza Volevo curarmi un attimo No Mi hanno devastato prima Zona in arrivo Ma che casino c'è qua Che casino c'è Che casino c'è Wuh, 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 wuh Mamma mia Infernale Zona in arrivo Ma che cazzo sto andando Non si che pesce Ah, estrazione qua Bene C'è gentaglia qua State attenti Guarda che infame Perché non riesco a fargli danni ad aria Zona in arrivo Ah che infame Che sei Maledetto Dai Perché non l'ho preso Neanche un po' Wow Una granata Ha fatto il suo aspetto Voto oro Se potesse arrivare Al livello dopo Ma Zona conquistata Possessione demoniaca conclusa Assist Wow Hanno vinto loro Ma Che sfiga Che sfiga Cavolo Sì che ho giocato anche bene Vabbè D'altronde però Per Per fare una partita bella Bisogna anche avere un personaggio Relativamente potenziato Diciamoci la verità 2185 Ok Undicesimo livello In tre partite Quattro partite Bene dai Bloccato L'elettro laser Che onestamente Non so come funzioni Dotazione personalizzata Tre Ok Tracciature di demoni Sicuramente serve Per tracciare i demoni Davvero Sfide completate Ok Debole Mancubus E basta Granata prosciugante Bene ragazzi Usciamo dalla lobby Yes Per il momento Abbiamo dato Grazie Alla prossima Alla prossima Alla prossima